Siamo qui in casa nostra, vabbè in casa nostra, è casa di mio padre però per un mese sarà casa mia e della mia migliore amica di qua e beve acqua io sembra che, boh, mi hanno dato un'accettata in testa siamo qui, stiamo cucinando oggi faremo come Benedetta Parodi? faremo un effetto molto tipico ma ci sono occhi neri faremo un piatto molto semplice ovvero pasta con la taglia non riesco a prenderlo abbiamo fatto soffriggere il soffritto di cartine cartine carotine oddio no, pasta traverso pasta a traverso abbiamo tagliato tre zucchine non lo possiamo fare contro mezzanotte? no, non ci ho potuto fare venite con me, allora ciao ragazzi mammi io te stai chiedendo via no, porco stazione quindi niente ragazzi noi stiamo cucinando questo sarà un vlog ovviamente e noi continuiamo a cucinare noi abbiamo cucinato abbiamo finito ora stiamo qua mangiando stiamo fuori dal poggiolo che è una bella giornata quindi abbiamo deciso di mangiare fuori buon appetito a tutti grazie a tutti